Riprenderanno domani gli elementi di capitano Roberto Taurino e compagni che si proverranno fino a venerdì prossimo. Poi una nuova pausa e ripresa del lavoro di preparazione il 3 gennaio prossimo per rodare al meglio la macchina a città di Brindisi in vista della seconda fase del campionato. Decisivo sarà l'innesto del bomber napoletano Vincenzo Chianese, regalo di Natale per i tifosi biancazzuri, con cui il mister Renzo Maiuri rinforza l'attacco con l'obiettivo di dar malforte al puntero argentino Nando Galetti. In molti non vedono l'ora di vedere all'opera la new entry, che in questi giorni muoverà i primi passi sull'erbetta del Franco Fanuzzi. Il tandem Chianese-Galetti offre maggiori garanzie in attacco e robustendo il reparto offensivo per puntare alla seconda parte di stagione a fare risultato con una maggiore aggressività. Chianese è sulla carta uno dei migliori attaccanti del girone, non resta che vederlo all'opera.